e poi siamo subito proprio eh allora vai 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 dai siamo a live su ok ci siamo ok ok modifica video dai raga oh già due commenti aspetta che leggo eh lasciate un bel like ragazzi alla live per supportare il canale allora lasciate un bel like ragazzi alla live vai a ricordarvi sempre allora chi è? ciao player ita ciao mattia iscrivetevi ragazzi se siete nuovi e attivate la campanella per non perdere ogni giorno le live su fortnite miniatura tipo aspetta questa ci sta ok perfetto eh si siamo su creativa ovviamente non si vince niente però ci divertiamo ovviamente si facciamo sfidata proprio mentre dobbiamo essere più raga a fare sfidata quindi condividi la live ragazzi fare conoscere il canale ok se oggi facciamo sfidata ok 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 se oggi facciamo sfidata allora Bucky ha scritto ok grande condividere la live ragazzi eh che è nuovo si si vuole iscrivere per supportare il canale lasciare la campanella ok ora si vede bene la cam si mi piace molto bene ok un attimo allora intanto entriamo su fortnite entriamo su fortnite entriamo su fortnite vabbolo riavvia vai ok ok siamo quattro spettatori benvenuti ragazzi lasciate un bel like e iscrivervi se sei nuovi e attivare la campanellina e sfide che c***o cos'è grazie non 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 bah tiè tant'è zero via No ma che è sta cosa Una cazzata Ok Se volete giocare ragazzi Io farei sfilata Iscrivervi in chat Bene Ok Bella Dimmi che parli Ah ok Mattia Allora ti aspettiamo Si ci sono Oh ti ho regalo qualcosa gratis Lo so Che cazzo era Mi fai capo che io non posso entrare gente Ok Mi ferma questa è nulla No Mi fai capo Abì Eh Mi fai capo Si si Grazie Allora potete entrare Raga Non è pubblico Lo so che non è Entra Adesso è pubblico Adesso si è pubblico Aspetta eh Ah fammela condividere la live Allora Whatsapp Discord Ok India Perchè Vabbè Vabbè Eh si 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 in creativa Non ho riserve private Alla fine Quindi la facciamo in creativa La facciamo in creativa Abito nel live Ok arrivo Vai a lasciare like Ragazzi eh I D Epic Player Eh Ma Eh Aspetta Ma fai la sfilata in creativa o in squad? In creativa Allora Il mio ID E' questo Eccolo qua Questo è il mio ID Vabbè a lasciare like Alla live Ragazzi eh Io ho già fatto Grande Mi sta invitando il Daniele Ah invitano Però non so se vuole Bella Lasciate un bel like Ragazzi Alla live Non mi dobbiamo dimenticare sempre Pure Ehm In creativa ci sta Dai raga Eh no Allora La vogliamo in squadra In poste Mattia cosa vuoi Della mia vita Non devi spiegarmi adesso Ciao 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 No 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 Cosa no No Che loro non ne vogliono fare Perché mi ha invitato a Ciro Ma cosa No vuole che faccia il provino Uno che vuole che mi faccia il primo dei team E va a far provino Allora Distruggi Distruggi Le danni E poi di No Distruggi E uguale Già l'ho fatto Ho fatto 12 kg su 16 persone Vabbè danni Io prima mi sono fatto Anche a me mi ha invitato Balla Cosa Balla Mi ha invitato anche a me a leggere Andiamo No ovviamente Come no Micchia no No Cazzo No Ok Stiamo con Simone Qua è una bitch No noi stiamo facendo Spirate di moda Stiamo facendo In realtà Stiamo facendo Spirate di moda Voi non siete alla morda Come uscite Eh Blazer Qual è il tema No tema libero Senza che famo temi Famo tema libero Ragazzi Ok Metto una skin più bella In realtà Si dovrebbe Si dovrebbe Si dovrebbe Si dovrebbe fare Nei servia privati Però vabbè Infatti Beh Sui servia privati Ma non c'erano Perché noi No No Nei servia privati Ci sono troppi bambini Che poi Mettono i granati Addosso Ci ammazzano Veramente Non si può fare Non si può fare Non si può fare Il binusella Indy ne sa qualcosa Eh no No Non si può fare Non ci abbiamo Già provati In servia privati Ma Non ci può fare C'è Ma con me In servia privati Fida se non ci tocca No Non so come mai Questo tuo sentimento Infatti No Infatti Non ce l'ho La risposta Che le gravate Le torno indietro No No Se tu fai Servia privati Non devo Condire Perché qua Cena No 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 Facciamole Un po' di Simone Noi E sappiamo qua Noi non griffiamo solo quelle di Simone Perché è più bravo Vero Noi non griffiamo solo il più meglio simpatico dono rossio grande vincenzo lasciatevi anche ragazzi chi è appena entrato installa me piaciuto ciao amico di legge ciao samuel lasciate un bel like ragazzi alla live mandemela tu pano cambia skin questa non me la usi sempre da broma e fila dei moda metti di un po di bombare l'uscente di strano ma non è che finisce notturna che poi risciatta ma è un po di più più sai che ti piace così tanto con la schiena ma cambialo dai proprio un po ma perchè non me l'ha potuto riprenderla nooo 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 c'è un po daniela ci stava ooo sta gente rompe il cazzo sta gente rompe il cazzo ma via vaffanculo va ooo mamma mia ooo vaffanculo va ok lascia un bel like e iscriviti e attiva la campanella ok e che mappa cazzo allora ok accettata accettata non lo so che mappa si usa per fare bene sono tutti da pad ah ok entra e pubblica vieni entra e pubblica sono stato il primo a muovermi perchè fai casino legend allora andiamo non mi fa mettere la mappa io direi nell'hotel voglio andare qua bella bella ma che sei sempre in la trio in che state giocando voi? noi stiamo facendo sfilata stiamo facendo in realtà come sfilata? mhm su creativa sfilata? allora venite andiamo sulla mia mappa che c'è tu mi faccio ho aperto questo schifo ciao saverio simone non mi dai la mia mappa a fare sfilata e dai mettila dai bene qua qua aspetta aspettatemi raga che entro mhm lasciate un bel like ragazzo al live di scrivere i sei nuovi eh e tirare la campanella fra andiamo a fare la trio dopo che trio? oh la vo' proprio dove ti fai da qua? bella simone no no la vo' c'è una bella bella sta a me dov'è? blaze 2020? effetti si ok che fiamma è? si lana stiamo facendo su creativa in realtà vabbè ci sta dai ci sta tanto perchè uno più no dai che è sta cosa invento l'acqua e vabbè che fiamma facciamoli po' le cose per grazie se magari avvii si facciamo perchè dobbiamo avviare? , non per ma mica devo combattere almeno ci vuol almeno allora lo possiamo non lo so non lo so ma ho usato le anile ho usato le anile ho usato le anile no oh chi è sto casino? ma io non lo so Ma che cazzo era questo? Oh si qua qua dentro vai Qua dentro Bella Io mi sono messa a skin Bravo bravo Fuori Forza uscite Raga io ho voluto con voi eh Simone è l'unico che ti spende Blaze Blaze io ho voluto con te eh Non mi date col pompa Ma perché Tutti qua rega 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 Allora Simone che dobbiamo fare? Che tu pensate qua? Allora dove c'è la skin più bella ovviamente Quindi qua Ok la mia Dobbiamo andare qui Ma in realtà dovevamo fare tutti in fila però vabbè Dovevamo fare in fila dovevamo fare La fila Cioè dovevamo fare tutte la fila così Cioè dovevamo mettere tutti in fila e poi io Ci devo la skin più bella Ci devo la skin più bella Ci devo la skin più bella Ehm Tu cretino vieni qui in fila Io devo valutare cosa fai? Devo valutare con te Cretino spara Vai Dove vai tu? Vai in fila tu Vai in fila Vieni Allora Vai Va bene il primo Ma lei va sta cosa ma non serve Vai Il primo Vabbè il primo Vabbè il primo Eh Il primo Facci vedere il piccone Facci vedere il piccone Facci vedere il piccone grazie Non ci ballare Che piccone Che piccone è? Mmm Quello la Non ci sta La skin è bella La skin è bella La skin è bella Ehm Ehm No no il piccone è bello Non è bello No vabbè Ehm Ehm La skin ci sta però il piccone no Vai stavolta passi Vai passa Ehm 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 Che fa casino aspetta un attimo Chi che fa casino Abbiamo fatto a tutti Simone No Raga poi chi è? Fermati Ah vabbè sono entrati Sono entrati No Il terzo Ma chi è? Ma chi è? Che è entrato qua? Chi è? Chi è questo? Ah No Allora In quanto siete? Raga qua Vai Qua Ehm Qua Adesso dobbiamo scegliere le 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 Quanti sono rimasti? In tre? No raga uno qua Uno qua raga uno qua Vai Allora almeno sono arrivato al terzo posto Vai qua Un altro qua Un altro qua Un altro qua Un altro qua raga Ehm Uno che viene qua raga Uno che sta qua Uno che sta qua No Uno che sta qua No 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 Non tu non tu Tu devi sta qua Tu devi sta qua Allora Mmm Si è rimasto c'era lui raga C'era un altro stile che era No no Quelli che stanno facendo Questi che stanno Che cazzo stanno facendo questi? Dai basta Fermi Basta Allora Via Aspetta che chiudo Ok l'ho chiuso Vai Ok Posso fare la sfida? Certo Si 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 Allora Id Epic Mandatevi ai ragazzi la DS Iscrivetevi Lascia un bel like e te la campanella Di nuovo Buono 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 Allora questa Vabbè questa è sempre bella C'è alla fine C'è No dai Ah è vero Il balletto più bello Vai Mettete il balletto più Il balletto Vai Vai Ok Ok Questa cosa ci sta? Questa è carino No vai No 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 fermo Il tuo balletto migliore Ma no il tuo balletto migliore Ma no il tuo balletto migliore Non ti lo allungiamo Raga Raga no dai raga Chi è che ho stronzo Dai Raga Chi ci da ci sta? Ci sta per finire le tue E' questo qua raga 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 Ma lo vedi che non si può fare? Cioè non si può fare sta cosa, vedi? Ma lo dobbiamo fare al centro Perché non ci sono armi Ma se la facciamo Al centro che non ci sono armi Cioè torniamo al centro Vai, vai, vai Cioè ma non si può fare Ma vedi, non è che ne serve privati si può fare Ma diciamo gente, sti bambini Wow Raga È Amy Trix Ah, Gato, Gato Piccona, piccona adesso, stronzo Piccona, adesso ci stanno andando Ok, oh 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 Oh, vinde qua, raga No, è arrivato Bombalone lucente Lui C'è la roba della spirata Zitti raga, zitti Zitti raga, zitti 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 Vieni qua Vieni qua, tra Vieni qua Zitti Oh, Flavio Eccolo Flavio È questo Vai, vinde qua, raga Vinde qua Vinde qua Ok Ma non tutti Eh Capa Capa Fermi Oh, fermi Ma non Capa Ok Fateci vedere Proprio Allora Il vostro spray preferito Posso entrare, sì, sì Ma sei entrato, mi pare Vai Provinciate Vai, è pubblico Mi chiamo Mi la mandi Mandemela tu, Francesco ID, Epic Mandemela tu Aspetta, sta avverando pure io, eh Uh, questo è figo Questo è veramente figo, bravo Questo è figo Vai, Capa Facci vedere qua No, non vedo Cos'era Non ho visto niente Qua, qua Eh Eh, bella sfida Attenzione Eh Vai, Capa Faccelo Faccelo Vai, Capa Vai, Capa Vai, Capa Guardiamo Guarda, lì Salite I concorrenti Raga, Slip Che capa Salgo Slip e capa Dani Ma ti chiedi No, non ti ho mutato Non ti ho mutato Eh, sì Sì, 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 sì Facciamo questo Ma si state un attimo fermi raga Fatemi un video No, che è Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Io ho due Io ho due No, sono Bello Quello di Astrojack era Era di Astrojack con la faccia Vediamo Vediamo Slipk Allora Ragazzi, siamo troppi raga Vedete un po' Flipk, girati Sì Ok Niente Ha vinto Slipk Ha vinto Slipk K K Per Sì G per K Che è arrivato Loro Vai, rifacciamo raga Siamo Rastro Siamo Tanti C'è Abbastanza Dai Adesso Adesso Facciamo 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 La mappa Facciamo La mappa Raga Ma se Ci mettiamo Tutti in fila No, ma che Mappa No, no, ne mettiamo qua Qua non ci sono armi Raga La mappa per l'attilata Qua Qua non ci sono armi Raga Qua E dove Ah Vai, 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 vai Entrate Ho messo io la mappa Ok, va bene Francesco Lasciate Lasciate Il like Ragazzi E iscrivete Questi nuovi E attiva la campanella Per le feed Per non partiamo Ogni giorno Le live E' dato Tanto Entra Francesco Terminate Che che ha avviato Raga Terminate 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 Raga Terminate Il massimo È 16 Raga Terminate Terminate Raga Terminate Ma torniamo al centro Raga Torniamo al centro Che è meglio Da via E stiamo qua Tanto Ok Tutti qua Raga Tutti qua Dove va Dove va Quello Dove Sono Aura Ah ok Grande Grande Eh Vai In fila In fila Merde Tutti in fila Ok Sono tutti in fila Guardate che bravi Guardate Ma dove sono tutte le persone Perché siamo in no Vabbè E sono tutti Ce n'è uno in quella app Ancora Gli altri due Tutti a b... Vabbè Vabbè Simone inizio a valutare Un attimo Fammi votare se siamo tutti Non ci siamo tutti Allora Tu Flaio voti Vota con me no Cioè devi No no Io adesso sto in Adesso sono sfilata io Bravo Allora dobbiamo vedere Chi è il balletto più bello Dai Forse è meglio Il balletto No no Adesso ricominciamo Però la skin E i picconi E non le armi Vabbè Uso i picconi Allora Flaio Eh la skin Eh la skin Da ci sta va Passa Passa Eee Passa lui Proprio lui Allora Il Bombarò Rulucente Si chiama questo Mi pare E cavalo Lui è cavalo Sì Togli il ritardo Non si può togliere il ritardo Francesco La live È proprio così La PS4 Allora Passa va Passa Passa Dai Questo skin Allora Mmm Dai che la poverotana Che non abbaglio skin Mmm Basta brutu va Vai Blaze Mmm Elimina Lo fa scherzo Mmm No Bocciato Via Bocciato Blaze Dopo ragazzi Torniamo in lobby E mettete altre skin Ovviamente Quelle nuove Non sempre le stesse Allora Anonimo Chi è anonimo? 262 Chi è anonimo? Creeper Creeper Non ha creato la tante Non ha più skin È solo questa skin Prima Vedi Il balletto qual'è più bello? Il balletto tuo più bello? È questo Vabbè lui Paglio passare C'è una skin Paglio passare Vai Passa Passa Questo è bello Passa Va Questo è bello Paglio passare Chi è anonimo 271 No Ti posso fare un altro balletto Simone Non mi faccio la tua vocale Ah Che ne so Simone Ti posso rincare un altro balletto Vai Passa Va Ti do un bingo Ma lo faccio da Blaze Con lo stesso ballo di Aura Questo Paglio passava C'è il balletto È pure il balletto oscuro Daniele Daniele Ti posso Vai Vai Passa Paglio Sei Allora Quelli cacciati via Quelli cacciati via C'è solo Blaze Blaze via Sono fra Ah ok 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 Blaze Via Dopo li metti Più carine Dopo facciamo I teni Allora Che ha quitato Allora Adesso facciamo Chi ha i cosi I spray più belli Vai mettete i spray più belli Ah è vero Il balletto Ok vai Vai col balletto Ok Ok I balletti qua sopra Qua raga Qua sopra Ma stiamo a chat di gioco Francesco Tu senti tutti poi Ha il balletto più bello Raga Vai vai Ma dobbiamo fare lo stesso ballo Il balletto più bello è questo Eh fregati Vai Flavio Vai prima tu Flavio Vai prima tu Vai Vai Quanto ci vuole per questo Di questo Di Emi Quello ninja Eh ci sta vai Il ballo di ninja ci sta vai Vai Adesso tu Chi è questo Chi è Vai Emi No non mi piace Via Non mi piace Vai Non mi piace Via No ne manco questo Via Non mi piace ne manco quello Allora In fisici Guardate Ti rallegrò io Vieni qua Ti rallegrò io No non mi piace Via Vai Capi Capa Guarda Non l'allegrò Ti sto rallegrò No ma che è Ma che è un balletto Ma che è un balletto Adesso un attimo Sono serio Ma che balletto era Cioè ce l'ho pure io Vedi Vai No no Non ci sta Non ci sta Non ci sta Non ci sta No Via Non mi piace No Non manca me Via Via Allora Vai tu Vai tu Benvenuto No no Via Ma che è Non ci sta Non ci sta Via 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 Non ci sta Non ci sta Via 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 Non ci sta Non ci sta Non ci sta Il balletto Chi sono i passanti Chi sono i passanti Chi sono i passanti Raga Cioè quelli Io non ci sono Io non ci sono Ok tu poi No chi è Rau No tu non ci stavi Merda Vai facciamo il spray adesso Flavio Flavio Vai 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 Non Centro Bene Chi è l'altro i passanti Non lo vallo Chi è l'altro i passanti Imbarichiamo con un altro Ma chi è questo Di chi è questo Di anonimo Aspetta un attimo Simone guardami un attimo Simone Oh dove sei andato Guardami un attimo Vai 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 Ci sono ci sono Vai vai Dimi ci sta 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 Timone il più bello è questo Ma dimmi ci sta Dimi ci sta per me Guarda il mio penetto Allora Timone il più bello è questo Qua Oh film Ci stanno No 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 Aspetta Aspetta Timone Io ce ne propongo due È meglio il cavalline nero Cioè più bello Cioè Stavate il cavalline nero Che è Non tu Via 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 Ha vinto lei Ha vinto Eh certo Cioè dai Cioè il cavalline nero Guardate che figo Guardate che figo Cioè L'ho fatto il cavalline nero Ora Oppure questo Simone ti piace questo Che cosa Quale Simone ti piace questo Calamity Quello di Calamity Qual è quello di Calamity Simone ti piace questo Il ghiaccio Simone ti piace questo Sono nonno Ah Simone di volta Simone sono capovini Simone è più bello il cavalline nero Simone è più bello il cavalline nero È più bello il cavalline nero Simone ti piace questo Il cavalline nero si è figo No quello no No quello di Calamity no Simone ti piace Cioè che io qui c'ha di spray Questo Nel 2020 Ma tanto quanto schifo C'ho spray di Differenti Mi pari io Simone è qui ma fa schifo Guarda che cos'ha Che spray c'ho io Di belli Dica Vabbè la skin Non so io che ha vinta Ragazzi Mette qua L'ha vinta Non è per questa valentina Vai mettiamo l'altro skin Ragazzi Simone è Eh No no Non ti infila Non ti infila Non ti infila Non ti infila Anche tu ti infila Non ti infila Ma cambiamo skin No Un'altra volta Arriviamo a sorprezzo Se queste cose Non ti infila Vai Non ti infila 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 Che che ha quitato Che che ha quitato Simone a te che tipi di skin Ti piacciono Simone andiamo Ma dove staranno andando raga Ma dove staranno andando Ah la lobby Sì Io ti aspetto qua Simone ti aspetto qua Perché Devo valutare Dopo mi ha cambiato Ah ok Va bene Chi sei Francesco Chi è Chi sei Flavio No non tu Flavio Era Chi sei Francesco Dimmi il tuo nickname Cioè Anonimo Chi è Anonimo Ma basta Ho stata la visione in nero Dio santo Io non ho uno skin Molto bello Unaremose Conibili non ditelo Non ditelo Ciao Zaid Bella Benvenuti al live Io non sento nessuno Come non senti nessuno Che voglio Che tipo di skin ti piacciono Non te lo posso dire Tipo Questa Questa è più bella Poi vabbè ci sta la renykid La renykid è pure bellissima No quella no Aspetta un attimo Un attimo raga Mettetevi le skin più belle raga Mettetevi le skin No facciamo tema rosso Cioè vedete il tema rosso penso no Eh raga tema rosso Facciamo tema rosso Vabbè ci sta la renykid Senti un attimo Soprò io i gamer che parla Eh Tema nero per stavolta Tema nero vai Tema nero vai Tema nero va bene Perché io Bella Timmy Timmy Buongiorno Sento lego Sento lego Eh sì Perché io non mi devo fare Tutto lego Eh vado sempre Tutto lego Non ho capito Non ho capito Non ho capito Io ero Io ero Vedo le vostre skin Vedo le vostre skin Regà E datemi un indizio Avete skin belle o brutte No no Simone la tua com'è brutto o bella Io non Ah me la ti metto pure io Eh sì Eh sì Tema nero frate Allora Tema nero Tu stavolta stai Tu stavolta stai in sfilata Solo io valuto Stavolta Flavio i gamer Solo io valuto Tema nero Che hai fatto 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 È andato già Vai Tema nero mi hai detto Io non sento Solo a te La tua è bella o brutta Simone È bella o brutta La tua Simone È bella Perché di sta squadra Ma mettete in creativa Vai Perché Tema nero Ah beh guarda Non ci sta Vai Tema nero Eh raga La skin di Simone È bella o brutta È appunto Flavio è dentro È bella No ta Faccio vedere Flavio questa No vi fa entrare Raga vi fa entrare Simone è entrato Vi fa entrare Anche io sento Ma ti devo mettere Comunque All'inizio Facciamo Vediamo Raga Tutti in fila Appena entrate Tutti in fila Tutti in fila Va bene Tutti in fila Tutti in fila Simone Ci sono Ho visto Questa skin Che è È quella Che è più bella È quella più bella Tutti in fila Tutti in fila Tutti in fila Vai In fila Vinte qua Ragazzi Tutti in fila Regà Pure te in fila Regà Tutti in fila Tutti in fila Tutti in fila Aspetta un attimo Dimmi Sì 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 Io non sento Quindi Quando devo fare Un'altra Ma basta che senti la live Eh vabbè Che dove va Vabbè Vieni qua Ecco mi arrivo Dimmi Ok Vediamo Ci sta Ci sta È quella più bella Basta Basta Basti Vai avanti tu Tu avanti qua Vai qua Tu tu Ok Vediamo Ci sta Vai Puoi passare Vai avanti Vai ci sta Tu avanti Tu avanti Tu con la skin Degli avengers Qua Tu con la skin Degli star wars Da qua Star wars Non lo so Ci sta Basta Ci sta Ci sta Ci sta Ma Ma quello Vabbè Eh dai Fra è nero È nelino Però ci sta Dai basta Ma tutti passano La fine Dai Zitto No Eh metrizi Ci sta Vai Tu Tu dove vai Tu dove vai Oh Tu non ci stai Tu colpi con la stella Non ci sei Tu qua Tu qua Non ci stai Tu sei bannato Tu sei qua Eh metrizi No Tu colpi con la stella Non ci sta Tu non ci sta Lui non ci sta Vattere Oh Oh bella Daniel No Chi questo Posso evitare Un mio amico No Stiamo facendo Blitz qua Blitz qua Blitz qua La fevo che Blitz qua Vabbè Facci vedere tu Fatti vedere tu Fatti vedere tu Kappa Dai Kappa ci sta Kappa ci sta Vai Blitz non c'è Tanto non me conto Regà Tutti qua Tutti sopra Tutti sopra Vai Andiamo Tutti infila qui Tutti infila sulle scale Infila sulle scale Regà Infila sulle scale È il primo che è passato lui Quindi facci vedere il tuo primo balletto Vai Io faccio l'ultimo Vai Tu tu Vai Facci vedere il tuo balletto No Tu Kappa Lui Ok Non ci sei Non ci stai Non ci stai Di là Non ci stai Non ci stai Via Di qua Bannate proprio Vai Kappa È come l'altra Tre volte Ok Kappa tu ci sei Vedi qua Kappa Ok Vai Vai Infiniti Infiniti Vai Facci vedere Infiniti no Non ci sei Vieni là Vieni là Bannato Vieni là Non è lui Fatti vedere tu Non ci sei manco tu Vieni là Di là Non ci sei Non ci sei Non ci sei Di qua Di qua Aspetta fammi trovare Un attimo Fammelo Non quello però Dove è No Non è questo Aspetta un attimo Fammelo trovare Che è difficile Posso giocare anche io Alla sfilata Sì Aspetta un attimo Non riesco a trovarlo Ma porca miseria Che Palle Un attimo eh Intanto lo fai lui Intanto che lo do il ballo Perché è troppo difficile Aspetta Aspetta Tu che ballo avevi fatto Tu che ballo avevi fatto Endis Non l'avevo visto bene Che ballo avevi fatto Perché sono passato Non l'avevo visto Non l'avevo visto bene Che ballo avevi fatto Non l'avevo fatto Non siamo in mappa Siamo Al centro In realtà Stiamo facendo Ok ci sei tu Ci sei Non l'avevo visto Vedi qua Vedi qua Tu che ballo hai fatto Facci vedere Ah eccolo Facci vedere Ho trovato L'ho trovato Aspetta Che ballo hai fatto Ok ci sei tu Vedi qua Vedi qua Aspettate Non ho io Tra Tu vedi di qua Tra Tu di qua Eccoci Ci sono Dove che siete Ecco Ciao Vedi qua Ok ci sei Vedi qua Vedi qua Dove Vai vediamo Di qua Di qua Tre candidati Tre candidati Di qua Fatti vedere Tu il tuo balletto Eh lui è giallo Va bene Lo faccio passare Facci vedere il tuo balletto Il tuo balletto migliore Il tuo balletto migliore No il tuo balletto Bannato Bannato Di qua Bannato 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 Ah ok ok Me l'hai usato bene Facci vedere Il tuo balletto migliore Eh io non so Tu balletti Te l'aspetta Io mi ho scliccato Ehm Ah che sta facendo Vattene tu capo Vedi là Te le faccio uno che ho scioccato Io Io sbagliato ho bannato 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 Non ci sei Via Via Ok Ok voi Spray Venite di qua Venite di qua Spray Qua 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 Spray Spray Dove Vai comincia 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 No No regà Di là quelli bannati Là sopra Quelli bannati Qua sopra Quelli bannati Di sopra Quelli bannati Di sopra Quelli bannati là sopra Salvatore Io ho sbagliato Ho sbagliato Vai Fra facci uno spray Fra facci uno spray Fra Però regà Levate Fra Non ci sei Non ci stai Non ci stai È rosso Via Via Non ci sei Via Via Sopra Qua sopra Qua sopra No basta Fare spray Vai qua sopra Vai qua sopra Fra Vai qua sopra Fra Fra vieni qua sopra Fra vieni qua Ma chi Ah no Devi andare lì Ah no Vieni qua Fra Fra vieni qua Vabbè Cava facci uno spray Un attimo Sto accettando Questo Ma tocca a me Accettami No no Tocca a Cava Tocca a Cava Fatto Accettato Passa Cava Tu vai di qua Tu passi Tu passi Vai faccio lo spray Vin Si Si muore Vai Arrivo eh L'ho trovato Aspetta Eccolo C'è io mi ero messo Casa Lì Non ci sei Via Ma come Non è bello C'è della skin Non ci sei Qua sopra Non ci sei Qua sopra Ma tu vai schifo Ma tu sei veramente Cacchiare Qua sopra C'è Vai È rimasto Emitrizz Guarda che se non va bene Emitrizz Ha vinto Dicami 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 che avevo sbagliato Mi è sempre sento automaticamente Quello sopra che volevo mettere Vabbè Vabbè Non lo rifacciamo Rifacciamo Eh no Perché ne ho uno bellissimo Sono così Sì sì Ah sei tu questo Anonimo Sì sì Sono io A posto Anche tu Ah ok Sì 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 Vado un certo di gioco Mi ha fatto vedere Quanta sfilate Sto balletto C'è ma Un boh Sì ci sta Vai eh Emitrizz Facci vedere il tuo balletto Un bel like ragazzo La live Se siete ben entrati Iscriviti Tema salvo Dichiaro il vincitore Tutti i zitti Il vincitore Di questa sfilata È Kappa Dicami a Kappa signori Ma io è bello Cioè ma io è bello Ma che Non è vero Hai fatto una cavallina Mentre tu sei un cavalliere Che cosa è Cosa c'entra la cavallina Non può Di gradirmi C'è proprio questo Guarda che cico Ma che fico questo Non l'hai fatto Non l'hai fatto Non l'hai fatto Non l'hai fatto Ah non quello Guarda questo qua Ti deve piacere Ciao Dai ma era bello Dai regà Ma che Dai Beh Tu perché Non sei passato Con il piccolo Se no passavi Così qua Non l'hai capito Non l'hai capito Non sapevo neanche Se dove Sì è bello Non avevo un pippo Ma cazzo Vai regà Vigilo Adesso di nuovo La sfilata Con queste skin Di nuovo qua In fila Ma no Ok vai vai In fila Sì ma io non c'entra In fila In fila qua In fila Vai Vai raga Vai raga Regà In fila In fila In fila Il primo viene da me Il primo viene da me Il primo viene qua da me Ok Facci vedere Il tuo balletto Stavolta Iniziamo con i balletti Vai In fila In fila Vai ci sei Vai ci sei In fila In fila Tu ci stai In fila In fila Il primo L'altro vedi qua Mi ha abilito vedi qua Ci sei Vai ci sei Vai accettato Ma io non ho le balletti raga Vai Ascizio Facci vedere Daniel vai in fila Sì ma io non ho balletti Vabbè tu vedi uno Mi migliore che c'hai Ascizio c'è Vedi qua Vai Vai Kappa Non so vedere Soltanto i balletti che fanno Kappa stavolta ha perso Vedi là Kappa ha perso Non mi è piaciuto Ma l'ho fatto Vai Daniel Facci vedere Non ci stai Non ci stai Vai Non mi fai Non mi fai Non mi fai Tu fai Tu fai Tu fai Non mi fai Allora tocca me Allora Aspetta eh Che ci sta Dai Eh Dai ci sta Cioè Eh Ci sta Ci sta Vai Ma quello era un ballo di merda Dai ma che era Quell'anonimo Era un ballo di merda Ma dimmi se il mio ballo Non è più Un pochino ci sta Per questa cosa fatti Ma tutti passano Ma io non ne ho altri Ragazzi Ok 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 Adesso ti fai Non vuoi due Non vuoi due Voi infila qua Voi infila qua Voi infila qua E raga tutti infila qua Tutti infila qua Non vuoi Non vuoi Non vuoi Ok Il primo ti faccia avanti Dove sto io E vedo la skin Faccia avanti Eh vedo la skin Tu ci sei vai Qualificato Via Ma Pk Vai di là Cosa facciamo Come facciamo C'è link Dei spam Nike bot C'è vai sopra C'è link Con pre-ball Ci sei vai C'è il piccone Blade E' quello che vai Passa 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 Chiura Allora Mi fa chido E' di qua 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 Morto Proprio Tu morto Daniel di qua Daniel di qua Daniel è morto Ma ragazzo Non lo ho capito Che dove fa? No Daniel no Di qua No Trolla Sì ma i due Anonimo Devono andare qui Eh capo qua Daniel qua Vabbè tanto Che dove fa? Chiusa Vabbè Anonimo Ah insomma Anonimo 271 Regà Infila 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 Qua Infila Ma no C'è una No C'è una No Raga Il primo Ti faccio avanti Mi faccia uno Spray Anonimo 2 2 2 3 4 Bru può tornare In lobby Non mi fa entrare Ma siamo Ma noi siamo In coso Vai Spray Inizio Facci lo spray Inizio Ma siamo In coso Come cazzo si chiama Intorno al centro Siamo Porto via Via di qua Mamma mia Che dove fa? No no di là No dove vai Oh mi chi qua Lo spray che è migliore che hai Qua mi chi qua Ah ok il falavio va bene Dopo Che dove fa? No raga Anonimo però Tra 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 Che dove fa? Oh Vai via E' bello E' bello E' bello E' bello E' bello E' bello Ah lo spray ti fa vedere Lo spray Lo spray Lo spray Lo spray Lo spray Eh l'ho detto Non capisco niente Qualificato Vai di qua Qualificato 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 Vabbè Blaze Però Io sto qualificato Io sto qualificato No Sì Blaze Sei qualificato Vai E' bello Dai Tu sei eliminato Vai Vai Mandamela tu Marco Allora In noi Dì a questo Mandamela tu Vai Vabbè Simo 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 Eh Ci stai per lì Un attimo Le poffie Che devo fare Un attimo Una registrata Un attimo Ok Vabbè 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 Adesso Vabbè Adesso Vabbè Adesso Vabbè Adesso Cominciate Da Timone Dica Vabbè Il balletto Il balletto Che bello Che bello Il balletto Che bello Che ha Questo Eh Dai Oh Guardate Che stronzo Adesso Ok Aspetta Allora Aspetta 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 Allora Vabbè Allora Vabbè Allora Vabbè Facciamo Questo Perché Francesco Perché Francesco Tu te ne vai E Vabbè C'è Eh Perché Mi dite una cosa Io Non ho sentito Per 22 anni Eh Lo so Ma Se provi ad avviare Il gioco Eh Se provi ad avviare No 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 Praticamente C'ho questa cosa Che Con 2 e 3 anni Mi fa più Parlare Non ho forte Non ho acceso Carino Che Ok No Ok Bello Figo Regà Cosa state facendo Cosa Bella Eh Dimmi Ma Andiamo a fare Un attimo Creativo Normale Ci spariamo Un po Dai Aspetta Flavio Fra Andiamo a fare Un po Di creativa Normale Va bene Sì Sì Allora Andiamo Raga Andiamo Mandiamola Tu Eh Maz Mandiamola Ah È vero Tornate al centro Raga Tornate al centro Ah Sì Alla cosa Ah Sì Sì Bravo Torna Torna Alla lobby Perché Nel quelli Non posso Entrare Quindi Torna Alla lobby No Fiamo Creativa Normale Adesso Mandata tu Emetz Ciao Mang Lasciate un bel like Ragazzi Al live Iscrivetevi Se è Nuovi Attrava La Cappanella No Facciamo Creativa Normale Adesso Vai Facciamo Una Bella Creativa Normale Ok Bella Ragazzi Ho dovuto Riavviare Fortnite Perché non Mi sentivo Più Brane Vai Che cosa Dobbiamo Fare Creativa Normale Facciamo Una Boss Fight No Facciamo BIOS Raga Facciamo BIOS Vai Siamo In tanti Fammo BIOS Che è Meglio Fra Facciamo BIOS Va Bene BIOS Facciamo BIOS Raga Ok Sì Sì Aspettiamo Aspettiamo Cosa Ho ricevuto Un regalo Che schifo Ma che è Sta cosa Vabbè Grazie Ciao Ciao Simone Ciao Allora No Non è Bello Allora Mio Dio Ragazzi E' Questo Mandatemelo Scusa Dobbiamo Per forza Ma che Perché Abbandonano No Simone Ma a te Piace Baldoria No Vai Mettete pronto Tanto Raga Sì Sì Aspettiamo Emetit Siente Preoccupare Intanto Può Entrare Metti pronto Fra Ok Bene Ci sono Ok Ok Lasciate un bel Arca Ragazzi Di nuovo A tirare la Campanella E Scrivervi Eh Condividerla Con i vostri Ma Perché Entrano Qui Ma Non mi Fa mettere Pronto Che Vuol Dire Tutto Baggato Sto Gioco Simone Per Mettere Pronto Non ci manca Di Mettere Di Dire Un Altro No Ho Messo Pronto Ho Messo Ho Messo Pronto No Te l'ho Accettata Te l'ho Accettata Raga Mandare Una richiesta Mandatelo Mandatelo Raga Metti Facciamo La scommessa Dovete Mettere Pronto Raga Allora Se Io Vinco Almeno Tre Round Raga Qualcuno Mi può Regalare Paldoria Raga Vai Raga Raga Si Io te Devo Regalare Si Oh Fra Sono Di Come Ti chiami Tu Sì 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 Ragazzi C'è qualcuno C'è qualcuno Che può regalarmi Baldoria Che C'è qualcuno Che può regalare Baldoria Manda la richiesta Mandamela richiesta Qui Mandamela richiesta Va bene Ragazzi C'è qualcuno Che può regalarmi Baldoria Se vuoi me lo può regalarmi Vabbè Lo vorrei io No Ma raga Però mettete pronto Mettete pronto Raga Mettete pronto Raga Perché sento Lego Staccatele i cuffie Rattaccatele Raga Staccatele i cuffie Rattaccatele Basta Basta Muto qualcuno Basta Oh no Non si può Oh Adesso si Tranquillo Non si può Non si può Nacca con sta gente Eh Ma non mettono pronto Eh Quello Poi fanno Un botto di casino Rimango qua Finalmente Non si capisce niente No No Stiamo facendo Creativa normale Cri Stiamo facendo Creativa normale Ci Ci ammazziamo un po Sì Ci ammazziamo un po Io un giorno Bottuto un cavallo Ma in realtà Io mi diverto Non è che faccio Il pro play Mi diverto E basta Ma io non ci gioco Da Cinco settimane Cioè Ci faccio Con le partite No ho sbagliato Raga Mettete pronto Poi c'è stato Tutto Io vorrei Manzubon Sì Figgissimo Aspetta Guardate Non c'è altro Di gioco Oblist Ti dimenti Oh Mettete pronto Mamma mia Il macello Mettete pronto E qui Sì Dicente Guarda Chi che non mette pronto Chi che non Si può vedere Chi che non Mette pronto Che lo banno Sì Sì Io lo vedo Come Chi è Chi è Che lo banno Why is Why S C C Flaz Flaz Per caso Why No Why Why As C C Aspetta Way Metti pronto Way Bruto Pemmina La skin lab Che è Pilote bruti Ma Pemmina Noi capirai Buon per banno Ma Dovano Please Entra che è pubblico Puoi entrare È pubblico Cri Ma Cosa C'è solo un Si chiama Way Azz Cosa Non posso Perché C'è solo il capo Entra È pubblica Può entrare I Cri Ma Chi stiamo Aspettando Quella che Non mette pronto Non mette pronto Non mette ancora Non mette pronto È una skin Bruto Femmina Oh Mamma Mia Ora C'è tutti Pronto Sì Sì Entra che è pubblico Cri Puoi entrare È pubblico È pubblico Puoi entrare Tranquillamente Mamma Ok Entra anche lui Ok Metti subito Pronto Chi è sto Batman Chi ha messo Batman Ok Grandi 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 Gli Ok Lasciate un bel like Ragazzi La live Che è nuovo Attivare la campanella E iscrivetevi Tu sei iscritto al canale Lasciate un bel like Attiva la campanella Bravo Adesso facciamo un po' di creativa normale E ci ammazziamo un po' Ah vado a dire qui Quei chetini Che fanno casino Fiamo bios Raga Facciamo bios Raga Facciamo bios Raga Che Facciamo bios Basta Fiamo bios Eh dimmi Comunque non si può stare In certi gioco Fai troppo casino Raga No no Non si può stare Proprio Ciao Sto qua tutta Grande Grande Iscrivetevi La campanella Grande Righissimo Grande No Non si può stare In chat di gioco Tutto quale gente Capito C'è Quando c'ho i server privati Quando c'ho i server privati Faccio solo server privati C'è Non si può fare Non si può fare Non si può fare Eh Hai mai regalato Su skill No 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 Mai C'è Attira un sacco di gente Perché la gente C'è Ehi Ehi Quando mai E quando mai E quando capiscono Che è una fregatura Se ne vanno E quando mai Che è una fregatura Ehm Io sei Perché Vai Vai Entra subito Sbrigati Eh Non so dove son finito Mi ha Mi ha buttato Ma questo non è BIOS No Non è BIOS È ZONEWARZ È BLONEWARZ BIOS Vai 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 Io sai Per cui ho questa skin Perché Io ho server al mondo Praticamente Mi piace Quindi questa qua È Commando Che vuole essere Al mondo Ah no è BIOS Raga È BIOS BIOS Ah non sto Entra Sono spettatore Ah no Che squadra sei tu Blu Eh sì Anche io E mi ha fatto in casa Uh ci sta Oh un po' di ammazzamento Di persone Almeno Si capisce qualcosa Io sto guardando La squadra Aspetta eh Fammi mettere Privato Che qua entra la gente Viola Viola La viola è messa male Uh ci sta Tu con sei squadra Che ti dico Che te Allora Quelli della viola Sono pregati Li ammazzacrati E gli attacchi Da adesso Sì ma una volta che lo becco Posso entrare Regins Sì Mandamela richiesta Iscrivi Lascia un bel like E ti dico la campanella E questo è il mio ID Tu sei il cavaliere nero E hai il squadra Cavaliere nero No what the fuck Non ho preso C'è una Bombarolo lucente Che ha 74 al 50 Stamorendo Un po' di sé Ti ho visto E' dietro di te La bombarolo C'è sulla Sulla cosa viola Dai C'è non mi ha sparato Il tattico Di merda Non mi ha sparato Allora Lo sta facendo Questa è stata una bombarola Della storia viola Mh Mi sta combattendo Contro Questo che ho scritto Io Tipo Va a 20 miliardi di metri sopra Ma tu non stai giocando quindi No Sono arrivato un po' da Ah ok No Beh muo Finisce la partita Entri Sì sì Ti ho visto Mi ho avuto a sapere E sto trovando E qui Non lo so Eh decide il gioco No Decide il gioco Decide No Decide il gioco No Non lo so Non lo so Non lo so Ora Mi scrivo dove Sei tu Fai Reckings Questo No Ok Ok Fatto Vai Entri che è pubblico Posso entrare in crea Sì Antonio Ind Scuolo Bianco Uno Scrivi Lascia un bel like E ti ha un pannello Antonio Tu con chi sei squadra? Schim militare? Grande Grande Enrico Molto gentile Schim militare? No Era una squadra blu Non mi ricordo con chi stavo Però boh Ah sta con coso Con con Ematz Ematz 777 Eh no Devi dirmelo skin Perché io non posso vedere Quello mio Eh Non mi ricordo con il nome Guardate questo Dimmi come è fatta Eh Non mi C'è i capelli biondi È la militare Eh sì Ah sì Allora Sei in finale Con la seguita Ah Eh no Sono morto Ah vabbè Bella Matteo Priore Lascia un bel like Ti ho campanella E scrivi eh Se sei nuovo E condivide Like con tuoi amici Condividi sempre Matteo eh Se Vuoi aiutare il canale A crescere C'è una Eh L'unico che va è questo Se porto altri giochi Vedi che ho 11 spettatori L'altro giochi Tipo COD Non va COD non va Ah ma COD io non l'ho disinstallato COD Cioè pensavo che andava Invece non va per niente Eh Io ho dito Intimamente Gioca Porto Brawl Te lo conto Va a Brawl Non lo so Speriamo A partire Vabbè è da telefono Eh Si vinci Te l'ho inviata Oppure porto dei giochi Che ne so Tipo Mai conosci Ma hai conosciuto Di c'è Ma che la vedrai Chi si fila Eh Aspetta Mi vede Apex Apex Boh Non so se va Va Apex Apex Non lo so Io non guardo i video di Apex Dopo di me Ciao Mandy Filippo Bello Allora Allora Questo Via Via No Sto a un certo di parti Mattia Fanno un casino Della manovola Cosa è successo Forse dei video Su Eh i video Stavo a pensare Portare Vai nella squadra No No Vieni La Vedi No Dai Vabbè Mai Mi sono in certo di parti Mattia Che fanno troppo casino Daremo orecchie Che perfetto Qual è il tuo youtuber preferito? Il? Tuo youtuber preferito Power Ok Tu che scuola sei Newer Power E anche Zyuder Ah Zyuder io lo guardo Ogni giorno Mentre faccio la Dio No Dai Come cazzo Non ho fatto A prenderlo Eh Guardi Ero io Infatti Devi morire Ok Mi invidi Aspetta No Fii No Madonna Che cazzo è successo Cazzo è successo Hanno terminato la partita Dai Chi è lo stronzo Un attimo Entra Antonio E' pubblica Ah vai E' pubblica Puoi entrare Antonio Entra Cori che è pubblica Stavolta Cori corri Entra è pubblica Cori nella blu Vieni nella blu Va bene Nella rossa Vai Rossa io vado Vai 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 Eh io non posso Ok ninja Ma chi è scopirla Che ha Ok E' c'è un cazzo Vabbè La rossa tu Va a vedere Mi aspetta Eccolo La tua squadra la vede Ehm Hai mutato Uno che spamma Ti lanciarai Smuta lì Aspetta un attimo Cosa è successo Cosa è successo Please Cosa è successo No no Perché fanno casino Ecco perché Sì Stiamo Succedendo cose Bene Entra è pubblica Ah ecco Vai E' pubblica Vai entra Vinci Corri Sbrigati Che manca uno Vai Entra Vinci Vai Vinci Entra E' pubblica Vai entra Vai Entra Ok C'ho Del hang De merda Vai entra Da Vinci E' pubblica Con la bomba Rolucente Eccolo Davanti a te Aia No ho sbagliato Mi ha sbagliato Avevo mutato tutti E' infatti Fanno casino Ma io non Io non T'ho mutato Maurino Io nessuno Ho mutato Io sto in certo Di parte Sto cercando Di trovarti Allora Si chiama Questo Troverei Questo nickname Mincini Mincini Nel 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 Gruppo Qua Nella ricerca Non trovo Non ho mutato Nessuno Maurino Nessuno Ho mutato Un certo Di pasti Fanno Non cazzo No Se vivo Anno Bene Uh E' un mezzo Qualcuno Ok Ninja Ok Vai Entra Mi puoi Unila A parte Si 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 Te l'ho inviata Entra Ma chi sei Maurino Dimmi chi sei Che ti invito Dimmi chi sei Maurino Nella live Ma Nella live C'è rumore No Perché urlano Ma chi urlano Aspetta un attimo Raga Cosa è successo Raga Perché fate casino Simone Simone Praticamente C'è un bim Simone C'è un bim Simone Che mi continua Direi che io Faccio casino Ma Annetta quel bambino Che fa casino Ma I bimbi Si congli Ma Che tipo Abbacia Del volume Del microfono Leggermente Tutti quanti Cioè Appunto Chi si Guarda Io vado Raga Io vado Nell'uno Se vuole venire con me Vengo con me Ah Sono con Entra Entra Vincita Entra E' pubblica Tra l'altro Troppi E quello È il problema Cosa è successo Siamo troppi Ma che bomba Raga Io Ti mi spastico Ma uno Può entrare A caso Sì Ma il mio team Non puce Non fa niente Non fa niente Aspetta Eh Raga ma Che 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 Giorgino A me lo parli Oppure Un anonimo Anonimo 265 Parli No io No io Non l'avevo Alleluia A me non ho parlato A me non vi posso Ma chi Ma chi Ma chi sto No ma perché Sono quel team Non capiscono come Come giocare Perché loro Non mi parlano Non lo bisogna Non lo bisogna Non lo bisogna Sono contatti A chi do Ma siamo 13 Ma siamo 13 membri Non siamo 15 Siamo 13 Può entrare Vinci Sì da dietro Ah no Siamo 15 Ma Quanti siamo Nel day Incredibile Raga 16 No raga Sedi Eh si Buon entrare Vinci Uno Uno Ne può Entrate Vinci Sì 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 Eh C'è mai io Anonimo No Simone Possiamo andare a fare Boxfight È meglio Boxfight Aspetta eh Oppure Zone Wars Simone È meglio Un attimo eh C'è Così brutto Perché c'è Ma può entrare Troppa gente in pochi posti Cioè ci facciamo solo Un attimo vedo un po' Deci invitarti No vabbè No vabbè Non c'è No Casi no No per favore Un attimo 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 No Che palle Sì possiamo fare boxfight Ma perché è sconfiggio Ma chi è che è continuare Un attimo Tornato al centro Torniamo al centro raga Vai Aspetta Ah è vero Un attimo Un attimo Ragazzi 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 La mettete La bocca È stata la rossa Iuella Ragazzi Vi prego Non mettete La mappa Con le hack Entrate Non abbiate Vi prego Ah ma è vero Siamo troppi Ecco L'ho fiato Ma dai Ragazzi Ragazzi Ma chi è sto casino Che è il bimber Tu capis E Simone 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 È vero siamo troppi Io non mi capisco No 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 Io non mi capisco Tutato a tutti Tranne te Tornato al centro Tornato al centro No 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 È giusta Siamo tutti qua È giusto 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 Siamo troppi No Ale No no Dove devo andare Simone ma tu sei nella box fight Arriba Non è solo una box fight Ok vai entra Vai entra Che è uccito qualcuno Vai vai entra Sbrigati Che c***o Entra Sbrigati Sto facendo una box fight Sto filando l'attacamento E' un po' di Cosa hai fatto Che è successo Stiamo facendo box fight Ovviamente Si si sono entrato Ma è riuscito Ma è riuscito vero No E perché non ti muovei più Mi resta un attimo Ok Bella Francesco Lascia like Bella Francesco Siamo pieni power Siamo pieni Però tanto rimando la richiesta Va Diere Ma perché stiamo facendo box Stiamo facendo così Box Bello GG C'è C'avranno tutti Ti aspettare che finisce la partita Vinci Ti dovrebbe far entrare Come richiesta di tutta Di rispettare che finiamo No Vinci Ok Uno è uscito Vai Mandami la richiesta Cosa è successo Quello là è uscito E magari Madonna Avantissima Raga Ok Pure blisi Abbandonato Due Quattro Sei Otto Dieci Dodici Tredici Vai Entrate Dai Ma chi è Ma chi è questo pezzo di fango No Io sono secondo Con tutti gli altri What WTF What Se lo rifanno Ma dai Dai Regà Ma vedi che non si può giocare Sono primo Sono primo con tutti quanti Mamma mia Sono fortissima Mi ci ho sforzato Ma chi è questo pezzo Tanto guarda Guarda Tanto ne manco costruisco Tre Due Uno Chi è che fa il cretino Chi è che fa il cretino Chi è che fa il cretino Ma non si sa Perché ci sente stupida Però No È un ricordato di merda Vediamo se lo fa di nuovo Esatto Manco costruisco Guarda Manco costruisco Guarda Ti sape che quello che è tornato al centro Vuol dire che Uno che è tornato al centro Ok raga Ciao Franzi Grande 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 Iscrivi Lascia un bellacchio Non ci può giocare raga Siamo già piccolate Muori No Non ho avviato io Non ho avviato io Perché siamo in quattro Ancora quanti siamo Perché siamo pochi Però io ho un trucco Provincio Eh Mandiamo una richiesta Lasciate un bellacchio Ragazzi Alla Iscrivetevi Insieme Va bene Cosa Ma basta Mamma mia Questo cacca Io ora devo andare Fra poco Devo andare Va bene Tanto Giochi ancora Ma Ma Mo vedo Verso Verso Le otto e mezza Lui non gioca Connet Non gli piace Vabbè ci sentiamo Un altro giorno E dato domani Ogni giorno Vuole il live Ogni giorno Venerdì Soprattutto domenica Guardiamo l'evento Se non Certo Venerdì Sabato Sabato Certo Tutti i giorni Tutti i giorni Guarda che fai un casino Di views Con gli eventi Attiva la campanella Eccoci Tagliamo le feed E scriviti Eh ma Giocco insieme Se vuoi Ti invito io a un party O tu mi inviti a me Ok Ma hai detto Basta che attivi la campanella Poi vedi la live Praticamente sempre io Ah ma io Sono già scritto Te l'ho accettata Adesso sono entrato Ok Sì mi hai accettato anche quello su play L'evento Secondo me Hanno fatto un casino Perché È durato un sacco Questa season Mai con la prima Iii Sabato Ci guardiamo l'evento Io Spero che ci sia Perché siamo in quattro Oltre i denti Anche tu Boh Non vedremo Oh Sono io a fianco a te GG Aspetta Fammi accettare Che sta Ok Accettata Vai Accettata Oh la madonna T'ho rotto il culo Oh da dietro Ah ninja Di merda Bene Ma che cavolo è questo Lasciate un like ragazzi Non lo lasciate Iscriveteci Se non Mettete le campanelle E condivete la live Sempre Che poi sabato Ci guardiamo anche l'evento Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa succede Laga Vai Ah ok È vero Ma domenica Che c'è Sabato Che ora Non so C'è l'evento Eh non lo so Come non lo so Non penso di mattina No No Di mattina Secondo me Non lo farebbe Vai Secondo me Il pomeriggio 6-7 Si si sta Ci sta Di solito Ho le 8 Alle 7 Mi sembra Mhm Aspetta un attimo Regà Ma cosa è successo Regà Ma che è No È pubblica Maurito Vieni Come lo pensi Stai cosa di mettere il cavaliere nero Tu che hai il cavaliere nero Eh no 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 Aspetta un attimo Dove mi dare Mauro Ma perché Non c'è No Ok Vai Oh Mamma mia È entrata tuttora Non ti hai richiesto Dove era finita la gente Ahia Sono morto Ah Grande Grande Vinci Grande Vabbè io Ciao bro Ci vediamo Sabato Oh bella Sei iscritto a tirare la campanella Sì Cato Tutti i giorni in live vado Quindi non è che vado Sì un giorno Ok bella Mauro 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 lasciate un bel like ragazzi alla live di nuovo attraverso la campanella iscrivetevi bene mauro mauro rica avete finito il distillare? avete proprio finito? si fra exidmiki abbandonato ora se non ci dovrebbe essere più casino alleluia alleluia ma no ab non ti sentivo sul party chi è mauro? si sono io basta che non fate casino no tu non parti va che è meglio si davvero ma mi hanno fatto un panino a me tu voglio vedere mi avete chiuso ma voi raga mi avete fatto un paninozzo io ho fatto con uno e mi arrivo un altro anche a me io ho fatto con uno e mi arrivo un altro e fra se siamo in 16 mi che fa un paninozzo ma sempre se li siamo ok 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 no no sabato 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 si giuccioli c'è la dica ma si ma è ancora vivo come? certo ma io vivo io vivo sempre no? ma nell'altra tomba a me no ma non eri te quello che morisse ma non eri te quello che morisse simon ma tu giochi dalla season 2? bravo vai simon grande simon siamo tutti con te ci sono i giochi? uno e vi ciò che vai nero eh si vai mamma mia c'è anche la rene che l'ho deshoppato mamma mia ragazzi tutti coltivo è troppo forte simon oh stai facendo eco ne è abbastanza stacca le cuffie e attaccale eh beh ok ora no no che smirati in merda che smirati in merda vabbè ma li hai fatto 90 in headshot eh 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 New郎 sad papp te ba 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 bla da 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 ma che scemenza vai la anche da lo raga ma io ma non ciò non posso neanche stare anche cosa che ora mi 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 entra incontrate quindi sabato è un mega raga sabato è un mega evento o su un evento così quindi un mega è un nuovo bello ragazzo l'agenzia l'agenzia non ci sono le ingenti ok ok non no 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 tra il culo e c'è un attaccato ma non sono disattaccato non voglio teamare non voglio Oh! Dai, però, sei un vento! Non vengo l'accanto. Lo so, ma il trick mai tutto. Il trick mai tutto. Ma io basta, non lo so. Dov'ai? No! Non mi uccide! Ma poi mi uccide! Lo so, ma scusa, ma dovevo... Ma ti... Non lo puoi morire! No! No, mi dicevi, al mio 3 ci spariamo? Mi dicevi, al mio 3 ci spariamo, no! Mi fai 100 uomicidi! Sì! E' un forte bravo! Eh no, però, se no poi rischiavo... Era morto che sei morto! Allora... Eh, però, dopo rischiavo che io morivo! Mantemi una richiesta, non ho mai chiesto! Che legge che sei! Ma che troppo legge! Uuuuh, infine un drink! Ho mangiato! Ok, no, no, accettami la richiesta! Eh, vabbè! Ma le... Accetto tutte le richieste! Eh, io non posso... Noooo! Secondo la ragina! Che culo! Non si fai delle forte! Tra l'ho chi è un team? Simone! No! Io si! Io ora! Io faccio parte di un team con Pest Team! Grande! Anche io! No! No! Niente! Solo che... Ora non stiamo facendo più tornavi... perché... Le mosse e quelle persone... Eh?! No, raga! Non mi potrei spammare in due! Va bene! Guarda, non lo stai a cosi... oh oh non è resto 2 da pc 1 da pc 1 da pc per forza mi ha preso il muro in modo assurdo in modo assurdo in modo assurdo umano ah ti avevo capito prima allora porco va bene la cazzo do 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 amare facebook amare facebook amare facebook stai lagando stai lagando stai lagando ma va faccio 300 di ping beh io faccio 20 anzi ora 2 zero ah dei cinesi di marocchino raga ma infiniti drift questo è proprio un po' cagassetto mi sa un po' cagassetto mi sa 200 ti vuoi dire ancora inizia no 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 ah vinci drift facca al muro vince la ceci strido non si chiama infatti di rinascita bella ragazzi e ragazzi ma per favore ora potete non spammarmi in due? cioè io metto sempre in un panino come mi spara vabbè? ma chi è che ha abbandonato? ancora ma c'è l'esercita che si diventa e faccia perdere tempo perchè abbandona per niente ma no è la gente che abbandona così rientro per chi sarebbe avve stu qua così così io non posso scammare in due ma si quello che momento mi sta bussando tre ah... hai fatto aj e un po' Oh, Watchfire, per favore! Non mi rompere! Ma se sei da PC Fire! No! 10 per te! Ancora si è distiscata qua! È un po' rotto! Ah, grazie che mi lasci! Ma vedete, ho un regalo, tanto adesso che mi sbuchi da dietro e mi fai un pello in 200! Lo so perché sono già buttato a fare queste cose! Oh, Watchfire, a chi lo faceva uno! Oh, vai, vai, vai! No, l'hai mia ma- No, la mia ma- C- Dai, ma- Ma sì ma non è possibile che ho sempre un panino! Un- Lì, 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 lì e lì e lì è werica! Infine da- 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 E lì e lì e lì e la mia ma- Da- 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 Ma- Da- 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 io sono in finiti in finiti dritto vediamo vediamo se vincerà edita sbaglia perché non io che l'ho fatto a c'è uno che stai stigando per favore no ragazze sono in un panino atomico ci ho quattro persone accanto buon salve ciao mario sono uscito dal fenomeno galattico no 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 perchè se faccio 30 euro e lui fa 100 e non... questa cosa qua non è logica Qualcosa non va? Eh, faccio il 30 euro di 100 Con un pombo che dovrebbe fare 100 normalmente Fornites non ha proprio tanta logica Si, Nicolas Ho stato un zic nizio Io non so sempre vedere Infinity Scrivi da come like e ti ha campanella, Nicolas Che è tutto zicco! Si va in skill, si porta il game a casa e Infinity un kill, una win Io è quella che c'è Chirio Scrivi la sombrilla che ti ha campanella Eh, Simone ma perchè non ti, tipo, usare i bot? Che bot? Tipo, per tipo come, tipo, i bot che ti scrivono, lascia like, iscrivetevi L'ho messo Ah perchè tipo io ho messo i bot, ma tu che bot usi? Stream Slap o Stream Elements? Eh, Nike bot Ah, io uso Stream Slap Stream Slap Raps, beh, che slap Raps Grande, grande, Nicolas Ma è tutto questo Infinity Oh, 50 Lucla Che cazzo Ha vinto Spam Infinity Oh, 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 oh Tripla kill Cos'è? Ma Infinity è bene Quaranta sette di vita Infinity sta facendo il devasto Yeah Ok, è una spammer Ah, la bimbo della mia è la bimbo E lo killa la... Ah, bene Mario Bene, bene A me è la mia Non lo vedevo Vediamo se qualcuno qui te anche dovrà Ma non esultare Ovviamente Non ti vedevo in più avrò poca vita Bene Mario Quindi non esultare proprio Bella, sì, ma... Grande, grande, la dico Molto grande, la dico Molto grande, la dico Ma dico Ma dico la dico, eh 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 Che fallo Ormai devo andare a me con la pesta Mi spamma O se vuoi che siamo a prossimo No, ne Dico Ooooooh Oddio Oh my lord Infinity Ah, si deve staccare Nooo Oh Simone 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 Che l'avo? Ah Gigi Simone Piavolo Ma fa quel effetto Vrai finì, ho fatto tutto l'effetto Ma è pure che c'è un cittadino Eh, è grande Mario Io No, ragazzi, ho fatto No! No! Eh, ciao, ciao, ciao Io qui Dov'hai? Ma chi sei? Ma dov'hai? Ma non è possibile che faccio trentali per cento? Ah Ma vieni che è forte, ma... È tutto... tutto... È un prezzo Tre... Ma non... io c'ho 14 kill come non te lo trova ma è quello bella squalo bianco 1 squalo bianco 1 eh per forza è quello non me lo trova ne manca me controlla bene nicolás ma forse si è scritto il tuo dps e non epic ma frenzy ma sei da pc ah si vede perché prendi per la mia misura guarda marcello lasciate un bel like ragazzi di nuovo attiva la campagna e iscriviti ma ma nevostante quest'uomo grande mario dai terza volta di consecutivo che arriva il secondo mondo ok ha accettato c'è sempre i bot chi ha anche qui ragazzi iscriveteci un bel like e la campanella che nuovo e condividete la live con i vostri amici bella 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 e lasciarlo anche scritto si è scritto al canale che culo ma perchè mi fanno sempre 200 madò black sapone solo 200 mi fanno e che culo cioè mi si avvicinano nooo frenzy ti ho fatto cosi killato grande grande bellissimo ho messo pure la camma ho messo pure la camma ho messo pure la camma dai faccio 30 che culo ce ne faccio 30 nooo guarda che questo è fatto che lo bicamperà come un puorco sicuramente nessuno scrive nei questi 40 spettatori come mai non scrive nessuno stranamente terzo grande terzo se è arrivato il secondo c'è secondo un momento in cui mi sono placciato tutti grande eh no perché ti morivo all'inizio chi è capito ora? io il cavrone ah quello che mi ha killato giusto vabbè giusto e ovviamente il ciappone vicino io penso perchè avrà mettere la box ma ragazzo contro quello da la pc me ne vado io grande e me ne vado quella pc per capo ma è picchio ma si sa ma perchè mi mando il box stranamente oh oh ho chiuso da pc mi sento troppo forte grande è quello da pc è tanta rosa il tipo io sono forte forte guarda come si sono contro un buio di capo vinto no dai lasciate un bel like regate la live che nuova che le campane di iscrivervi lasciate un bel like grazie alla live che non aveva lasciato cg per infiniti che si può fare una kill si vabbè arriva scappa poi riviene 171 alias voleva scrivere alias però il non scrive ninja proprio lui quello vero è peggio della session 2 ragazzi c'è pure il server a disco da ragazzi che vuole entrare la scompa del nike botta l'automera bestia salvista ora mira assistita questa si chiama mira assistita è troppo insieme a chi scuola ragazzi tripoli e giocciata ma no ma è stata le potenziali sono su quelli da pc cosa incontroli invece sulla piesta pure aumentata perciò grande con la piesta dalle impostazioni avanzate c'è intensità mira assistita questo fa avrà mille per niente ma ma aspetta che mi vado a mettere anche io mille c'è così a meno un po' di mira ma non c'è l'opzione mille nel senso che ha fatto tipo redshot il massimo accemente vabbè non è tutto il massimo grande il massimo dell'intensità non è però non può abbazzare l2 l2 penso sia fin il primo è 3 giorni che c'è enrico stranamente tu non mai segue solo me no no se fossi dovevo le impostazioni avanzate per la mia assistita attuando il gioco la storia di schiera ora oh ecco grande fra noi abbiamo scelto lui la funzione ninja non so se sia vero o fake cioè però non sono ultime ninja a ninja non gli ha detto tutto culturale le ha dato a me e a una ma io uso pure questa scuola ma cosa cambia con vecchia scuola cambia che cambi tutti con triangoli e costruzioni le armi mamma ma che schifo eeeh di tutto è usato dai che scommoni veste 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 oh ninja si muove anche odio la famiglia proprio ninja che sfida no ho sbagliato no perchè dai ho sbagliato no sbagliato ninja ibo che non sa cosa fare si cambia con me sono settimo però non sono ultimo e vuoi cosa grande io ce n'ho uno da davanti e uno da dietro raga c'è quello che si sbamma gli ha detto ma ancora sei ninja e l'altro non è sono morto no grande grande pesci 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 oh ho fatto il primo fumo heavy uuuuuh guarda questo heavy ti vuoi fa ma sbaglio vedi uuuuuh Aspettai un attimo che tipo io altro un po', no, ok, un attimo raga, eh, gg, grandi, grandi, che nob, grandi, grazie, 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 oh, adesso, non chiusi a capire essere che nob, non sai giocare, eh, grazie, grazie, ma mi sono pure dislike, guardate che merda, vedo che se giocherai anche tu, capisci, c'è un pro player, eh, sarà un pro player, farlo essere pro player, contento lui, se diverte, Ma perché non si sta, perché ti dove spammare il tutto qua? No, ti ha confatto, dai, ma non muore questo, che c'è l'ambulanza, Ma l'ambulanza è fatta da me? Eh, io devo incontrare quello là che spammare il tutto, Grande, grande, eh, главa, devi inserver il disco, già dico, il pabannaio bordo, buono no? Buono, buono, buono. Giorgino, sempre lui, il più forte, il miglior dei phase, ancora lui, fammo con gli air, ma sarà ninja capi, sarà ninja, conosco solamente phase Giorgino, Giorgino, guardatelo, guardatelo, ok, guardatelo, sarà ninja, dai, grazie capone, oh, dico, sarà ninja, non ti preoccuparti, ninja, assolutamente, muovati po', 50k la botta, ok, guardatelo, mondo, ma tu sei proprio, oh, va bene, si spammaggia, madonna, si spammaggia di te, poi va, si spammaggia, prendi, che la mia massa, ti consiglio pure, GG, consiglio, 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 eh, GG, oh, fa 50k, Enrico, eh, allora, farai tipo, cioè, questo Gabri, dice che è più forte di tutti, allora, quindi, riesce a battere noi, in noi 20, quanti siamo, in 8? 9, 10, 10, 10, quindi riesce a vincere, no, brutto, brutto, no, dai, ma perché mi uccido in 50? e i mani, who? a quello, a quella, a quella, a questa qua, ma perché, zumo e qua, in via Med quotidiva, eh,ет caldo, che ragazzo, questa qua, ma con la RE che va nel caso power, grande, ma che cack ma come avevisto, mandor di This out what the pack, Giorgino Re che intanto è che sceglie o due? Cioè io scappo da uno ma arriva l'altro da davanti Ma cos'è? Quasi è vero? Cosa sono questi panini intergalatici, regà? Io ero bussato da due, da ninja e da fezzo. Proprio... E io c'avevo... Il tizio che si spamma io, come si chiama? E' Franzi Killio, ecco Cioè avevo Franzi Killio, Fezio Giorgino, sotto c'avevo un altro Oh questo è il ninja, ninja 200 secondi Ehm, ma non c'è se Fezio Giorgino, perché c'è affatto l'edito E' il supporto, poi... Ehm... 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 Via! Un bambino in meno! Un bambino in meno! Un bambino in meno! Via! Via! Ma quanto è ciamperato? Ma quanto è ciamperato? Mamma mia! Ma allora... Ehm... Claudio... No, va! Previ, previ, previ! Guarda che se l'altro mi vergogno! Oddio! Andata! Ehm... Non ti preoccupare, Rico... È un bambino in meno! Un campericone non so chi! È un BM! È un BM in meno! non ti preoccupare, Rico! Prego... E uno mio di Claudio, c'è un bel like che ti ha campanera, sennò... ma che non sono vicino con i porti oddio cg dai grandi grandi sono morto scriviti ragazzi chi è il nuovo è un bellacca della campanella nico di scriviti ragazzi esce un bellacca della campanella di nuovo appassionato nico che buona questo oh ma sto prendi già 17 kg allora me lo puoi cogliere bene mentre l'altro guarda come spama però mamma mia c'è che da parte però non ho visto c'è che da parte c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' è morto è morto è morto ma questo chi è c'è due ragazzi tutti contro lui basta mi dovresti segnalare si 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 va bene che bene ragazzi ci sto dai ragazzi mancano 2 like ai 20 like dai ragazzi anzi mancano 3 like dai ragazzi mancano 3 like ai 20 dai ragazzi lasciate un bel like dai ragazzi lasciate un bel like che è successo? si è buggato è visto è visto l'ho visto l'ho visto tutti 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 lì raga vai vai è la raga 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 vai 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 io me ne vado sto per fare no 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 chi è chi è il nappo chi è questo nappo chi è questo nappo vieni qui t'ho uccidio t'ho uccidio no 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 ho sbagliato persona gg gg o non lo avranno farsi mentre l'altro eh lui il forno no eh lui è mongrel io non sta sciudendo lì sta sciudendo tutto eh allora è difficile io mi diverso ecco va beh ha incontrato la raga stavamo a fare tutti per lui raga male Ma cosa è successo? No, ho sbagliato Aspetta, l'ho sbagliato Sì, Danilo Scrivi la cimballa e attiva la campanella E' tutto un baccante Bravo Ah, perfetto Lasciate un bel like ragazzi alla live E mancano 3 like ai 20, dai ragazzi Mancano 3 like E iscrivetevi al canale Mancano 6 iscritti ai 1250, dai ragazzi 5 iscritti, meno 5 dai ragazzi Meno 5 ai 1050 Raga, tutti a freddo, tutti con freddo Dov'è, dov'è? Chi ha testo? Stimma, stimma Stimmi noi No, si è sbagliato! Che schifo, ho setta in testa Andiamo da presto, andiamo da presto Però, possiamo fare il giorno, forse Non lo sta tra di 3, di 3, di 3, di 3 io Bella Leo guerra Scrivi la fammi, la sa che lappa adesso Guarda Leo Stai, 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 stai Stai, stai, stai Stai, stai Stai, stai Stai, stai Stai, stai Stai, 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 stai Non è facile fare questo Per uscire 보세요 Vai ragazzi tornata alla lobby Scusa Tornate al centro Tornate al centro, raga Dai raga C'è un bimbo minchio che spama Che spara Oh, occhio Sei come la כל Dai tornate tutti al centro Facciamo un altra mappa, dai Dai, va bene Quale? e non mi fa ammetti perchè a meno ah ecco che faccio io faccio io facciamo desert la desert facciamo ragazzi Circhi manager no devo No no adesso non c'è come Vai entra Perché non mi fa entrare? Che ci vuole a merda E ci vuole a merda Ma ha mai fatto entrare Ok non avviate non avviate raga per favore Che avviare l'ammazzo Eh Fate i balletti Sì No dai chi è avviato Però c'è l'avvio automatico Che cosa sei contento? Ah è per la fake donazione? Abbastanza Scusate un attimo raga Scusate un attimo Paragano Ok adesso va molto Maia Eh no Eh beh Ok non andiamo andato via Dove siete i bambini? I bambini dove siete? Eccolo là lo bambino Eh brutto brutto Bambino Tu sei un bambino felice No Eccolo Ecco 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 Ma vai a far cadere eh? No Ma chi è oh? Molto Molto Fredziiii Bravi Nemico peggiore He Eccolo Eccolo Nooo No, scopo, no Che trappola Che trappola, genio Mamma mia, che genio, mamma mia Lo sapevo, lo sapevo, che genio Te l'hai messa tu? L'ho fatta apposta E quella è la trappola che ho fatta Che genio, mamma mia Stiamo facendo il giro, che palle Che genio, mamma mia, che genio Mamma mia, che genio Mamma mia 300 in più Mamma mia 400.000 Ciao, lo sapevo, lascia un bel like La campanella e le iscriviti Eh, bu, lì, sono troppo forte Cioè, io ho messo quella trappola Proprio da, mamma mia GG Ha tirato uno, abbastanza No, tu brutta persona Tu, io non ti conosco, basta Basta, basta Veramente brutta persona te Via, 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 via Ciao Enrico Bello Pazzee Ragazzi, è sempre una morto Dovevo capirlo, è della safe Basta, spammare me Dove te Mi sta tagliato, mi ha spammato me Che sono morto da safe Ma che scassero Ma che scassero, che scoppiera Vero avanti Sto safe Basta, perché mirate me Miro, perché miro da me Aiuto Ma, 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 perché? Ma, ma, perché c'era un giusto Nooo, ho sbagliato Maffanculo, ho sbagliato Prima che trappo l'ho commesso Però, ammazza Dovevo mettere a caricare il telefono Ma, proprio io Guarda, che porca giuta Ma, ma dai, basta Di spammare con i miei cani Porca troia Eeeh In questo senso Mh, finga Mh, finga Mh, finga Mh, è gi- Eh, è gi- Eh, è gi- È giusto, è giusto, è giusto Guarda Gino, devo vedere il tempo Com'è tu? Ooooooh Oddio Oddio Gino, 1 like Attenzione È morto? Come uno stupido Oh Dio Oh Dio Oh my God Oh Dio È morto È morto Eh, vabbè Che cazzo brato Eh, ma Eh, ma Embe 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 Le trappole di me Embe E se l'hai sopra, vorrei dirti Cazzo 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 Hai peci sotto Cazzo 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 Io ricevo l'altra Cazzo 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 È uguale Questa Cazzo 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 come sprecare tutti i materiali bello ragazzi e se cambrò come una casa come ho fatto quello di prima con me basta cambrò le dente e stop bella davide no non faccio 3 più 2 no no stiamo facendo la desert raga ma ragazzi ha la grande come un porcellino se lo vedo tipo la terraina di sardo dai c'è un bel like ragazzi alla live eh iscriviti insieme a mettere la campanella e va bene grazie grazie tanto mi sceldo no brutto per solo giordino che palle lascio vedere la live ragazzi eh bella stefani lascio vedere la live ragazzi che non l'ha lasciato eh lascio vedere la live che non l'ha lasciato eh mi c'è la metto la 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 like ero grande grande stefania è morto quasi? non sapevo che giocassi tra le due ma in realtà è da quando è uscito fortnite c'è la battle royale ovviamente quando è uscito la battle royale del gioco a fortnite l'inizio era molto bello calata un pochettino è calata ehm verso le 9 9 stacco 9 9 9 no non muore non muore a quanto è il top 1 euro vieni stefania lasciate un bel like ragazzi alla live che non l'ho lasciato non perdevo ogni giorno le live su fortnite e poi l'evento di sabato ragazzi eh si si entra entra vai entra è pubblica vai entra stefania stefania intanto lasciate un bel like ragazzi che non l'ho lasciato eh arriviamo a 20 like dai ragazzi mancano 3 like grande lasciate anche un bel like ragazzi mancano 3 like ai 20 dai ragazzi ce la faremo grande 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 voilà puoi anche l'evento di forte che arriverà sabato non so a che ora arriverà sabato sto aprendo fortnite e pubblica puoi entrare arriverà sabato l'evento speriamo di essere un po' rispetto contro l'equipo Questo evento di Fortnite Mega Cagliardo Vediamo un po' Ciao Giorgio Andrei Benvenuto in live Benvenuto Lascia un bel like Attiva la campanella Iscriviti Se sei nuovo E condividi la live Con i tuoi amici Comunque sono maschio Ah ok Leonardo Che bonifica Non mi scrivo Almeno mi ricordo Non mi ricordo Grande Grande Andrei Lascia anche un bel like Se ti va Iscriviti Per supportare il canale E condividi anche la live Con i tuoi amici Almeno facciamo crescere Stabic Fermo No Stava attimo a bitango Stava a bitango Non posso Ah ok Va bene Stefania Dai ragazzi Mi sa che manca anche un like Manca un like ai 20 Dai ragazzi Manca un like ai 20 like E mancano tre iscritti ai 1250 Dai ragazzi Fini la nostra partita Dai ragazzi Ciao pro gamer E se vi piace un bel like Tutti la campanella E se no Condividi la live E la madonna GG Dai mancano due iscritti ai 1250 Dai ragazzi GG per voi Facciamo crescere questa big family Facciamola crescere ragazzi Ho guardato tutta la live dall'inizio A che ora? A che ora sei stato in live Enrico? Mi vuoi dire a che ora? Se ti ricordi ovviamente Ovviamente se ti ricordi Ok Eh vabbè Basta che Si sarà abbastanza live Io sono contento Basta 60 ti hai ciò che hai fatto No mi ha costruito Non mi ha costruito Bro Puoi attaccare le cuffie Che vuoi di? Ce l'ho attaccato? Eccole Ce l'ho attaccato? Ah 18 Ah bravo Un bel po' Lui vorrei te Ce l'ha stato grande E' il primo che rimane sempre in live Atico Cioè per un bel po' Cioè in tutta la live quasi GG per te GG per te atico C'è anche il link per donare Eh Leonardo Eh perché stavo in certo partita E sono andato prima Vabbè fa niente Hai lasciato like? Io E' il primo 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 Quindi sei una femmina e un maschio Quindi sei proprio un Allora E' il primo Ciao si Chi è? Chi è? Chi è? Chi è che ha fatto? Ma ci si spara subito Quando si esce o Si aspetta Io Che vuoi? No Si spara subito Vinti ne è scappato 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 Siiii Franci Fallo venire Mi sta largando Ecco qui Voi l'avete fatta Le sfide? Io si Che sfide? Io si Ci sono A strada Atenzia Dei deltaplani Un deltaplano Una copertura E' un piccone E' un pupone Ah lo devo fare Dopo Andello farò Siiii E' Dai E' molto fatti E' un pochino Che ci vuole un po' di testa Prego Franci Ho lasciato un bel like ragazzi Mi hanno lasciato Dai non voglio pesare Lasciatemi farci Ma che copino ha distrutto Ma che copino ha distrutto Ma che copino ha distrutto E' anche questa E' riuscita a caso tutti Basta quello lì che mi ero occupici solo me Eeeh 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 Aze 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 Bipar Grani 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 Grande 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 Uccidete bre Madonna Bella madonna E' un doppio 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 Ok Franci Da che bianco Va bene grazie Non esiste Franci controlla ben intuiti E' un doppio E' un doppio E' un doppio E' un doppio Ma prima ho tirato un doppio Non ho visto Non ho visto Guarda questo Guarda questo Guarda Guarda Non è che Non è che ha scritto Epic Squalo bianco uno Se lo è lei Di Epic No Ah brucia Ragazzi ma questo qua è troppo forte Mi avrebbe solo da spellerlo E' troppo forte Perché Se uno è forte E' forte E' un problema E' un amore che sta vincendo solo lui Montella mando Franci Montella mando Franci E' un po' ti rompe Ma solo lui sta vincendo eh E' un forte 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 Che devo dire io che sono morto all'inizio Sì Sì Franci Montella mando E' un forte Vi Hattura Lì non posso mandarlo la richiesta franci mi dici che mi dici che è impossibile la richiesta un amico a causa di impostazione del destinatario si andrea mandami la richiesta grande francesco grande francesco non posso mandarla franci mi dici che è in possazione sono morto sono morto ea a un po' un po' non posso che dice che non posso mandarlo nelle bellezze vaffiglia incontri per lui ma piccone te le palle si i mameli madri sondra T'ho scritto nel dia, andrò a mandare me la richiesta Usa le macchine Adesso ho capito che sei forte, però dai, killalo Non è parte del pezzo qua Ecco, sono 200 volte Tra queste cose, come un forsellino Ah, rompio la bouncer, rompila Ma che me la richiesta, Andrea? Eh, piccone, piccone Grande E non si può giocare con lui Ma veramente, no, non si può Ma se ne ho però una bella tigre, doni? No, vabbè, facciamolo, sei più bella Eh, facciamolo, eh, però, minchia Dai, allora, siete tutti in abito, dai Sì, sì E ci si adatta con la tigre Eh, me la fai subito, a meno la mette usce, quello Ciao, buone Oh, ho stato con i tigre Eh, ecco Ah, ok Eh, è una droga quella, non è una droga quella Non è una droga, non è una droga, non è una droga, non è una droga, non è un niente Simone, mi senti? Sì Sì, lo so Sì, sì mi tocco un altro amico che si è scritto da quando avevi meno di 500 iscritti io sto morendo abbassare un punto da live per favore sono morto sono un amico di teccio e bimmi ok ma da quanto è il canale fino? dal 2017 17 abbassate il boom da live per favore io ce l'ho 80 ok adesso sta a 0 ma tu dai che si son giochi? 1 2 ah io da la 7 io pure ci son giochi ma chi è questo? grande grande è francesco grande grande è francesco eh ragazzi qua ha chiamato la famiglia ammazziamo la famiglia di tu un amico la futta ma sei una macca dove c'è ad esempio vedi chiano cazzo è quaffando vedi che mettere le grapple delle le tre parti bianco si deve questo grande ragazzi io mi ricordo di fare ok ecco tranquilli che hai detto mi scopera 1 a 1 tranquilli ma ragazzi non mi ha droppato l'arma non mi direi che è stato simone devi essere stato simone ho un'emozione oddio 105 no dai ma perché sono morto si si andrea se vinco due round magari magari Jessica ma porca mignotta comunque la testa è un bordo ci state il timo ma tu ce l'hai già già il l'avete giusto aspettate il tu l'hai già si ce l'ho ma tu sei arrivato no godo 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 si ha vinto si si andrea si si ma guarda che solo perché ti ho ucciso ma chi è il papo del team chi è chi è no non sta qua è un altro è il papo del team io non lo so ma ma perché c'è il team tu ah no ah no mettavo il capo della dei qua della parte qua no 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 del mio team no 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 eh qual è è un altro fermo sempre se lo ha detto eh dai raga ma se ne troppi mi accetti si è un'orgia io me ne vado ragazzi è un'orgia questa io me ne vado ragazzi è un'orgia questa basta non ne vado ah ciao Riccardo ciao Riccardo vi saluto ah dai rivedete tu ah ti ha visto il mio sorello mhm il ninja no dai che fai un'altra mappa ma è un altro po' c'è un poco stacco quindi facciamo solo questa ragazzi non c'entriamo madonna ma raga non famo questa va è meglio ciao saluto lorenzo saluto lorenzo saluto lorenzo saluto lorenzo l'ottima facciamo la mappa è d no no gg vittoria La trappola, volevo mettere la trappola Ok, va bene Leonardo Io ho fatto un'eliminazione Simone e Duda Dunque, perché come sei? In? La posizione fa anche bene ha fatto a questo game In questa round Le due Io ho una Ce l'hai scritto Rega, ma perché non mi ha dato la R? Ma che merda di gioco è? Sì, sì, ciao Leonardo Alla prossima Allora Allora Ho messo la 5.30 Ma hai sperato quale che vi è scritta Ma che ancora hai 5.30? E' svegliata la tua tonneria Ma che ancora hai 5.30? E' 5.30 E' beh, 2 minuti mancavano E' non vuole far cadere 5 Non vuole far cadere 5 No, mi alzo No, mi alzo Ma perché bucate la massa voi? Mi raccomando E' ragazzi, lei non ha la R, che coi mi devi creare uno skin no jessica non dirà niente si è pubblica puoi entrare andrea vieni è pubblica andrea vieni è pubblica puoi entrare no no lo scarico è pubblica andrea puoi venire e fai male ma non so che sono le nuove che c'è 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 oh no no non lo guardi io comunque le grappe non li trovo mai con le grappe io sono bellissimo ma io quanti fps faccio due e anch'io eh guarda che mi facciamo tutti poi 26p s giocate tutti della season numero 5 1 quindi giocate tutti di una stagione che è in serie al 5 allora scende una brutta mossa ma io non ho capito cosa è successo ma chi è che ha messo la trappola ma chi è che ha messo la trappola ma chi è che ha messo la trappola ma chi ve lo mette la trappola ma io l'ho piazzata è incrasinato avevo i faloi, i banser, le trappole non c'è una mia mappa no ma se facciamo la zonwars ma se facciamo la zonwars e io a piazzare la trappola zonwars non c'è una persona che non c'è niente in verità io ma se facciamo la zonwars ecco appunto ciao a tutti sono morto grande bello, bello io mi rendo guarda e ma perchè mi ha tirato solo a me no regala dai, io ti chiamavo questo si chiama appunto di un ragazzo il gatto che ho il dog, il dog di merda e mi è passato dietro ma comunque è una cosa troppo casino non si capisce niente ma ragazzo ti soffrinci quanta spamma mhm mhm c'è la sala, vorrei giocare, direttamente a mono quando vuoi, ecchio, ecchio no regalmente, no regalmente no regalmente piccolo cane, corri, piccolo cane per tutti godo, sai che spivizio, c'è la stanta cinti 80 di vita 85 oltre, non si è morto, non si è morto, non si è morto e se si è morto e se è niente c'è una segretà di vita ma poi non c'è 3 di vida l'aiga ora facciamo una cosa aspettiamoci tutta l'ultima safe cioè l'ultima quando si chiude piccola no e infatti questo è bello che cosa ha fatto non è che mamma mia mi dico che dal punto di non sta entrando nella nostra mappa quanti siamo siamo in in morto no 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 ragazzi ma se andiamo a fare boz ti prego ma che boz ma non siamo troppi ma come è incasino fare boz c'è 4 5 ma facciamolo andiamo nella buca boz ma se facciamo questa ma se facciamo questa ma c'è raga c'è il lutte della vita no no non ho capito a te la c'è nanda raga ma c'è che c'è che fa e che la cerano c'è che mi non so quello la con la l ecco quella raga che non c'è una persona grande grande nando raga ma io sto prendendo tutti ma non è ma non è molto solo ma non è fps c'è poissimi fps è io la 50 ma non è spama va bene ma non è spama no ma non è spama ma non è spama dai raga no ma raga no no poi ci cade in giro perché la prima cosa è troppo così non si sentono i passi oddio questo quanto mi no ma dai grande non si può fare una zona non si può fare male che cazzo è che cazzo è ma quanta gente si sta unendo a me la cazzo è un po' così ma io tipo chi è che abbiamo 600 di vinta bella ciao ciao ragazzi siamo in 16 è il massimo è da sopra c'è sì mi sa desigione un'altra raga non è che manca una persona solo una persona può entrare adesso ma prezzi chi la ma perché non parla raga mi dici che che non posso entrare eeeh dici ma puoi fare un'altra roba di invitarci ma guarda aspetta che qualcuno è che puoi entrare ti dovrebbe fare entrare basta che aspetti che qualcuno quitta o continui a mettere pronto e ti entra non è che devi uscire poi sta mappa quanta è vecchia buono che ce l'ha fatto? ho aggiunto kebab guarda che builder guarda brak guarda brak che build cecchino cecchino hsl tu fai 300 dai brak brak dai brak ti pusha ti l'ha indentata doppio edit e lo distrugge e se vanno notte domani mattina ti scappato ma mi sta laggando minchia stra edit hai stra editato guarda ragazzi io sto andando tu ahah si dalla vida hai vinto proprio così minchia un colpo su tre caricatori aia vai vai vediamo il pompa fammi vedere il pompa 21 gg hai 51 di vita e tu stai fuori safe dai tranquilla che down che down guarda come mori dalla safe bella chi è questo chi è la 3 yarda chi è dai ascizzo non mi dai pompa che ne so ogni tanto è bug ogni tanto è bel bug gg ascizzo che è 3 yarda che cojoni però dai oh yeah vai simone ah no non è simone no chi è il mio skin morto via iesen guarda come errano guarda come errano guarda come una ti sono è verissimo, è verissimo, io vedo un simone è verissimo lo so, sto dicendo apposta, vero simone? no, lo so ma che simone ogni giorno si dimentica ogni volta di mano ma chi è? ma chi è? non lo capisco chi è BREADDU! BREADDU! chi è BREADD qua? chi è? come non sai chi è? non ci credo! come fai a dire? chi è BREADDU! chi è BREADDU! grande Giorgio! io ho fatto... non lo so ecco Ticcio Bibi! Ticcio Bibi! Ticcio Bibi! Ciccio Bibi! ha vinto Aras! no, ora no, ha vinto io! ha vinto Aras! io sono morta perchè ha vinto la vittoria grazie simone perchè io killo tutti rimaniamo io e lui e gli do la vittoria ha vinto ha vinto ha vinto che skin sei tu? io? si quello da ping pong eeeh! cosa? dai fioi chi è da... chi è da... chi è da... chi è da telefono? guarda questo da telefono dai dai la ci sono già una... ah ma ma prezi i da vicini aiuto ma prezi i da vicini dai lasciami curare lasciami curare ti prego ma prezi a tutti i prezi i da vicini ah non mi piacciono le trappole ahahahah e vabbè da sopra adesso arriva mia mamma e mi tira una stecca in testa che muoio io io da sopra che io sto scappando perché ho dieci di vita ora ci ascizzo ma non mi lasciano in pace non mi lasciano in pace devi morire ecco che ce l'hai piccolo anche questo e non gli sparano e sparano sempre a me va bene ma c'è un tizio che si fa le sky wars madonna si fa le sky wars si fa le sky wars si fa le sky wars è morto è morto è morto ciao gabbiale sono pro player comunque stanno chiamando ciao gabbiale sulle nita non per meno live seo se ragazze di un pro player a suoi nando bainando se non è più vai così si è asempiaticamente così la dentella ed è l'uso nel film di roma Prego, mio PL Fammi vedere quanto sei forte Minchia, edit? Sì, proprio così Ma non c'è tastiera, sì La PC è, da PC dammi un tasto e ti fai edit della vita Il primo giorno che io giocavo da PC Anche se io gioco da play Ma ho giocato anche da PC Ciao, il tuo L Sto facendo un bel atto, ragazzi, si vede al canale Simone, mutami un attimo Che vorrei chiedere a alcuni di loro Se possono vedere Cioè, se possono Ok Oi Nando Lasciate un bel like, ragazzi, da like Iscrivetevi se sì, no, vi attivate la campanella GG Io faccio l'ultima, ragazzi Domani mi devo alza presto Quindi faccio l'ultima Poi ci vediamo Domani Ciao, c'è Dai Dai Che palle Oh raga io vado eh Ci vediamo domani Come vai? Eh si devo staccare Domani devo alzarmi presto C'è che devi fare? Domani devo alzarmi presto quindi Devo staccare Ah ok ok Ci vediamo domani Ci vediamo Sempre verso le 6 Sempre verso le 6 raga Bene Bella raga Ci vediamo domani Sempre alle 6 Lasciate un bel like Ragazzi iscrivetevi Ci vediamo domani E attivate soprattutto la campanella Per non fare live Perché Faremo sabato l'evento Bella raga Buonanotte a tutti